Ciao, sono Leonardo Pugioni e lavoro nel gruppo turbulenza non lineare dell'Università di Turin. Studiiamo una soluzione viscose di polimersi a numero di numeri di Reynolds. Abbiamo considerato un modello di due fili di Euler, la velocità fluida e il tensore di configurazione di polimersi. Questo tensore è definito dalla versione orientale del singolo polimersi. è descritto dalla equazione Geffrey nel limite Slender-Rod. L'effetto dei polimersi sul fluido è quantificato da un polimersi non newtoniano del tensore di polimersi, dove Eta è un coefficiente, il coefficiente di feedback, relato alla concentrazione di polimersi. Abbiamo anche pensato che il flusso di velocità è incompressibile. Abbiamo anche definito un flusso aggiunto, descritto da un equazione di diffusione ad advecciano, per investigare le proprietà di mix di questo fluido. In nostra simulazione numerica direttamente, abbiamo usato un 256 sq. o un domaine periodico periode. Abbiamo usato un algoritmo pseudo-spectral e un schema di 4 ordine longecuta con l'integrazione implicita di termini lineari, per l'integrazione di tempo. Abbiamo usato il flusso colmogoro, dove una forza monochromatica induce un flusso monochromatico laminar. E abbiamo usato il numero di Reynolds uguale a 1. Il flusso colmogoro, nel caso di newtoniano, è stabile per questo valore. Abbiamo usato immediatamente che, dopo un transiente iniziale, i polimeri stabilisano il flusso laminar. Possiamo ancora osservare un flusso sinusoidale, ma vediamo anche la flusso velocità in tutte le tre direzioni. Questo è quantitativamente confermato dall'energia, dove un lato di potenza chiaramente mostra che ci sono molte scelte attive. ma, diversamente dalla situazione di turbulenza completamente sviluppata, l'esponente di questo lato di potenza è più grande di tre. e quindi il flusso velocità è semplice in spazio. Osserviamo anche che questo regime caotico diminuisce la energia kinetica minata e quindi diminuisce anche il flusso minato. Questo è confermato se osserviamo il profilo minato e il profilo velocità allungo la direzione z, che possiamo chiaramente vedere che sono significativamente meno che la situazione laminar. Possiamo anche compilare l'energia kinetica effettiva per quello che avremmo nel regime laminar. In questo regime caotico osserviamo che necessitiamo molto più di potenza per ottenere lo stesso flusso minato. Quindi questo significa che il polimer aumenta la droga e con alcuna dipendenza della concentrazione di polimer. Per capire meglio le proprietà di questo flusso, possiamo anche analizzare il momento e l'energia in particolare allungo la direzione z tutti i stress e le forci hanno un profilo monochromatico quindi possiamo ottenere un'equazione per l'amplice dei tre stress renal stress viscose newtonian stress e stress polimer stress chiaramente osserviamo che il stress renal è negliabile quindi gli effetti iniziali sono negliabile. il effetto dominante è il stress viscose newtonian ma il stress polimer non newtonian è comparabile al stress newtonian finalmente abbiamo investigato anche le proprietà di mix mixtlian snapshot of tracer field at different times show us in a qualitative way then chaotic motion induced by polymer causes an enhancement of the mixing this is quantitatively confirmed by l'analisi delle varianze del campo e la varianza del gradiente del campo. Il primo esiste un decay esponente molto più veloce che il decay nel flusso laminaro. Il secondo, al principio esiste un rinforzo e poi un decay esponente molto veloce. Summarizzando, il modello Doey-Edwards predica che una soluzione viscola di polimeri rigido possa induzire un flusso caotico anche a regime di low Reynolds. E questo flusso esiste alcune similarità ma anche alcune differenze con il regime turbulente. In particolare, questo flusso caotico causa un forte rinforzamento della droga che è causato dal stress 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 non newtoniano che in questo regime è comparabile con il stress stress viscoso. e abbiamo anche osservato che le proprietà di mix di questo flusso sono forte e acido. e finalmente, abbiamo comparato il regime in due dimensionale e in tridimensionale. Il regime è qualitativamente simile nelle due situazioni ma gli effetti sono forti nel in due dimensionale. Grazie per l'attivazione. Ciao!